Casanova, opera pop. Ho scritto oltre due ore di musica dopo aver letto il libro di Matteo Strucul, Casanova, la sonata dei cuori infranti. Mi ha aperto un mondo perché è un Casanova diverso quello che lui racconta nel libro e questo libro è la sceneggiatura di un'opera per cui mi sono messo a scrivere, a lavorare con passione e ogni personaggio ho cercato di raccontarlo nel modo più corretto, proprio per trasmetterne l'anima, la personalità, l'indole ed è nato questo lavoro che io ho chiamato opera perché ha l'impianto dell'opera classica, nel senso che la storia viene narrata attraverso le canzoni e le parole delle canzoni, ci sono pochissimi dialoghi e sul palco tutto si svolge proprio appoggiandosi alla narrazione musicale. È un'opera che mi auguro riporterà la gente a teatro non appena finisce questa terribile pandemia che stiamo ancora subendo perché la gente ha voglia di riemozionarsi e credo che non ci sia storia più bella di una storia ambientata a Venezia che è la città più magica del mondo per arrivare nuovamente all'emozione.